Qualche giorno fa ci siamo lasciati con questo grafico, il grafico FAD FOMO che vi ho mostrato dalla settimana scorsa ed i mercati Bitcoin, criptovalute, anche i mercati classici, Nasdaq, eccetera, hanno continuato la fase rialzista o meglio, Bitcoin soprattutto si è mantenuto che già è qualcosa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video dove finalmente andiamo a scoprire il grafico che vi ho fatto vedere la scorsa lunedì e l'indizio nascosto in questo grafico che vi avevo promesso ma prima di andare a fare tutto quello che è il rito giornaliero di questa analisi grafica, ragazzi funziona anche oggi, vediamo come andrà. Avere scherzi a parte ragazzi, roteare il Bitcoin, sto portando fortuna, io lo faccio roteare all'infinito. Va bene, allora detto questo, andiamo a vedere un po' la questione in questi ultimi due giorni, Bitcoin sostanzialmente non ha cambiato la sua fase e tutto diciamo si è confermato anche un po' come quello che avevamo accennato nel video di lunedì, ragazzi. Quindi anche Nasdaq, vedete, ha continuato la sua fase di trend, un po' quasi sembra pilotata, candela verde, candela verde, candela verde, candela verde, candela verde, fuori fase storica anche, no? Un mistero delle serie storiche, però in sostanza da un punto di vista ciclico ci siamo perché il ciclo mensile di Nasdaq prevedeva anche il touch di questa zona, come vi dicevo, la zona resistiva di cui vi avevo parlato. Quindi anche la struttura di Bitcoin e Ethereum in generale delle cripto ha continuato la sua fase di alzista e queste candele diciamo stanno andando a disegnare un trend ancora rialzista, ma ovviamente in esaurimento da quello che era la questione della fase da ascensore. Quindi in sostanza non è cambiato niente in questi due giorni per fortuna. I dati disponibili ci indicano che in sostanza il trend continua ad essere lo stesso di cui vi ho detto lunedì, quindi continua ad essere la rialzista e non si è neanche messo in laterale al momento, anche se ovviamente la pendenza del rialzo si è ridotta. Molti investitori però ancora, ragazzi, sono convinti che Bitcoin può rientrare in questa fascia di prezzo, cioè che questo rialzo in pratica ha le gambe corte e che in sostanza Bitcoin dovrebbe poi ritornare in questa area di prezzo qui, cioè magari non proprio nell'arco di pochi giorni, però in sostanza molti investitori sono ancora convinti che Bitcoin debba andare intorno alla zona 12-13 mila naturale, punto di arrivo di un movimento bear market che rispecchierebbe quello che è il bear market degli altri anni. Ma questi investitori probabilmente ancora non sono saliti sul carro e quindi un po' stanno anche forse temendo proprio questo rialzo con la cosiddetta FOMO del fatto che non sono probabilmente saliti su questa fase di rialzista. Altri invece investitori hanno cavalcato questo trend e danno il concetto del dubbio se effettivamente sia il caso di andare a prendere o meno profitto perché ok il trend continua sta andando abbastanza bene, un po' forte, devo essere sincero, un po' ad ascensore, i trend ad ascensore spaventano, ma il problema è sempre andare poi a chiedersi se effettivamente un rialzo del genere può perdurare un po' di più o meno. Quindi è questo il dubbio che ovviamente stiamo cercando di sviscerare in questi ultimi video ed è quello che andiamo a fare proprio oggi ragazzi, andando a ragionare su appunto questo grafico qui. Quindi in sostanza ragazzi il problema di oggi è proprio questo, se Bitcoin si può fermare o meno da questo movimento ha solo ritracciato diciamo il disastro dopo TETX e poi in pratica ritornerà al trend, al ribasso. A dire la verità a me quello che premeva ragazzi andandovi a fare vedere questo esattamente questo grafico qui era parlare di una questione, cioè eliminare la confusione che in questo momento probabilmente c'è in molti anche investitori legato a queste due idee generali che sono entrambe vere cioè entrambe possibili. Ok lo so che sembra scontato però in realtà non è un entrambe possibili perché tutto è possibile ma è un entrambe possibile perché i dati di analisi ciclica e di analisi tecnica ci danno ancora queste possibilità come fattibili ma ci sono delle situazioni che il mercato potrebbe andare a affrontare nei prossimi giorni che eliminerebbero una di queste due possibilità eliminerebbero proprio definitivamente una di queste due possibilità almeno nell'arco dei prossimi giorni ed è proprio questo il concetto che andremo ad affrontare oggi con questo grafico andando a eliminare appunto quella che è la questione della confusione cioè andando a definire quelli che sono dei livelli e dei livelli tecnici e delle logiche di analisi ciclica che ci poi portano a scegliere una delle due ipotesi in maniera estremamente più probabile lo ricordo in maniera tecnica che quello che facciamo qui ragazzi è analizzare dati oggettivi per definire quale probabilità di questi scenari è quella maggiore non andiamo a prevedere il futuro che non si può fare ricordate questa cosa chi non comprende questi concetti ricordateglielo voi stessi ragazzi anche nei commenti di questi video così diamo una mano un po' al fatto di poter tirare fuori questo concetto che lo so ragazzi non è banale non è semplice non siamo abituati a ragionare così quindi ci vuole un po' di tempo e quindi io accetto anche ogni tanto volentieri di leggere magari qualcosina di chi non comprende un po' questo concetto non abbiate paura di queste cose ci può stare assolutamente è normale siamo qui per spiegare un po' di logiche diverse allora questa fase ragazzi che è tutta concentrata in questo grafico qui inizia esattamente da giugno ed è proprio da giugno che si è andato a ingarbugliare un po' tutto quanto questo perché da giugno sono iniziati a salire anche alcune criptovalute non solo bitcoin soprattutto alcune cripto come Polygon ed Ethereum per esempio hanno strutturato anche Binance ha strutturato una fase ciclica ragazzi che ha creato due strutture cicliche differenti questo è il problema quindi tutto deriva proprio da giugno e da lì siamo stati un po' siamo andati un po' oggettivamente in confusione quindi abbiamo dovuto ragionare in termini di pratici quindi agire non in base ad analisi predittive ma in base a quello che facevano i trend proprio in questa fase qui perché ragazzi vi faccio comprendere il concetto se da questo punto di giugno è iniziato il nuovo ciclo annuale di BTC come abbiamo detto un milione di volte questo ciclo è ribassista ma questa fase di ripresa che parte dal minimo di novembre è una fase che ci sta anche nel ciclo annuale ribassista cioè non è anomala una fase di ripresa del genere anche se bitcoin avesse un ciclo annuale ribassista iniziato a giugno è qui le due logiche però è qui il problemino di cui volevo dirvi ed è il motivo per il quale noi non abbiamo assolutamente possibilità alcuna in questo momento di avere una probabilità altissima che sia una ipotesi o l'altra in questa è una fase di totale equilibrio di probabilità tra entrambe le ipotesi vi faccio capire questa cosa proprio a brevissimo ragazzi quindi se questo minimo è appartenente a un ciclo annuale che è iniziato qui allora è semplicemente un nuovo ciclo semestrale si definisce così più o meno sono 160 giorni dura un po' di meno di un semestre però in pratica con un ciclo corto non mi tedio con queste cose teoricamente questa è una fase naturale che divide un ciclo intero vi faccio la cosiddetta struttura in due sottocicli perfettamente simmetrici realmente non sono così ragazzi ma che sono un semestrale quindi primo semestrale, secondo semestrale questo significa che l'inizio di questa fase a prescindere dal fatto che questo ciclo annuale sia ribassista ha comunque una fase positiva ed è questo la questione in atto quindi questo movimento rialzista che è iniziato da novembre che mi aveva fatto diciamo dire più volte rally di Natale sì, rally di Natale sì, che poi mi ha spiazzato perché il rally di Natale non è stato fatto a Natale ma a gennaio è un'anomalia storica solitamente avviene prima però il concetto ciclico di base che mi faceva propendere per la fase rialzista di cui vi parlo da due mesi era proprio questo qui quindi il concetto che ci fosse questa struttura ciclica quindi una parte di ripresa a prescindere dal discorso se in effetti qui l'annuale è chiuso qui o chiuso qui doveva comunque avvenire poi la quantità la ampiezza scusate di questa fase al rialzo dipende da una serie di fattori dalla questione fondamentale dalle scelte della BCE dalle news che vengono sui mercati dalla FOMO del mercato questa è una concezione diversa è un concetto diverso di quanto poi va a svilupparsi però una fase diciamo di respiro e rialzista doveva comunque avvenire se invece ragazzi la questione del al primo di novembre alla scusate 20 di novembre 21 di novembre ci dice che qui è stato iniziato un ciclo annuale che a quel punto durerebbe poi fino a dicembre prossimo questa fase è il primo ciclo semestrale del nuovo annuale quindi si sposta in pratica al concetto di 1-2 e non abbiamo più primo semestrale secondo semestrale ma abbiamo primo semestrale e in questo caso solo in questo caso l'attuale ciclo non ha nessun tipo di vincolo se invece appartiene al precedente annuale questo ciclo semestrale teoricamente dovrebbe essere laterale o ribassista non può essere al rialzo questa è una questione di teoria ciclica allora da questo però questione qui da questo assunto noi ne otteniamo un'informazione che è quella che ci serve che andando a guardare solo questo grafico vi porterà nei prossimi mesi a comprendere quello che sta succedendo e quale delle due fasi due scenari ha la probabilità che si sposta è come un baffo ragazzi va bene come un baffo voi vi mettete qua anzi vi uso questa che c'è la scritta bullish ok come un baffo ragazzi quindi al momento siamo proprio al centro non c'è nessuna possibilità di sapere dove andare valgono entrambe le ipotesi ma se il mercato inizia a breccare alcuni livelli noi spostiamo la probabilità più di qua o più di là se invece inizia a scendere perché si sta andando a creare uno di questi due scenari che vi sto andando a descrivere allora iniziamo a capire quindi a questo punto questo grafico esattamente questo grafico cosa ci va a nascondere e qual è la questione delle strutture di analisi tecnica per ragionare ragazzi da un punto di vista tecnico non possiamo più utilizzare la ciclica ma la analisi tecnica useremo l'analisi tecnica cioè i livelli di ritracciamento in particolare Fibonacci che in questa particolare situazione io non lo uso quasi mai ma in questa particolare situazione ci viene fortemente incontro perché i suoi livelli di ritracciamento sono indicativi in questo caso della potenza della forza del movimento rialzista un movimento rialzista che inizia qui e che ok che è un semestrale eventualmente bra 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 però diciamo se appartiene a un ciclo annuale che deve chiudere ancora deve fare una cosa del genere non può avere una spinta così eccessiva da superare alcuni livelli di ritracciamento allora ci mettiamo qui andiamo a scrivere quelli che sono i nostri ritracciamenti di Fibonacci con l'opzione di TradingView e andiamo a ragionare esattamente su quelli ora come vi dicevo so che molti di voi resteranno saranno un po' colpiti dal fatto che questo esatto livello di resistenza dove Bitcoin si è fermato coincide alla perfezione con il più importante dei livelli di Fibonacci che è 61.8 0.61.8 in effetti vedete 21.5 21.4 circa è esattamente coincidente sia con il presente massimo dello swing pre-crisi FTX e quindi diciamo da un punto di vista tecnico proprio di prezzo il più importante poi corrisponde anche al 61.8 di Fibonacci è anche il motivo principale per il quale come vedete BTC sta stentando nel superamento di questa struttura proprio perché è una struttura molto rilevante il 61.8 di Fibonacci basta e avanza per fermare quello che è un ciclo semestrale rialzista nella fase rialzista di un ciclo semestrale che deve poi volgere alla chiusura quindi del ciclo annuale se siamo quindi nell'ipotesi 1 ciclo di giugno questo livello è già un livello più che sufficiente di ritracciamento della fase di bassista precedente questo è un dato tecnico ragazzi non è un'opinione qui non c'è un'opinione è un dato oggettivo il successivo livello se dovesse Bitcoin breccarlo è questo qui 78.6 78.6 corrispondente a 23.000 dollari per Bitcoin è un doppio livello perché non è solo un livello di Fibonacci ma è anche corrispondente a una delle più importanti figure di inversione di trend che io seguo da un po' spiegato anche nel corso poi in Academy la seguiamo si chiama Gatekeeper se volete andarla ad approfondire funziona da Dio con le cripto come i vecchi pattern che vi ho fatto vedere quindi approfonditela trovate tanto perché è famosa diciamo è un pattern famoso nel momento in cui arriva al 78 dovesse arrivare a 78.6 quello è un altro livello chiave ragazzi al di sopra di un livello di 78.6 il baffo inizia a stringersi cioè iniziamo a spostare la probabilità che la versione ciclo annuale iniziato a giugno e ribassista traballa un pochino questo è il concetto perché già questo livello è impattante quindi se noi saliamo al di sopra di questo livello il dubbio che qui bisogna fare ancora una cosa del genere inizia a venire a venirci proprio in maniera molto chiara è vero che ancora abbiamo l'ultimo baluardo che poi sarebbe questo di resistenza quindi questa zona tutta è una zona che va ancora bene ma bitcoin non dovrà superare questa fase se supera anche i 23 si sposta praticamente in questa zona e tenta l'aggressione al massimo di 25.000 dollari a quel punto chiaramente la struttura della probabilità si sposta verso la seconda ipotesi cioè il fatto che a novembre si è iniziato un nuovo ciclo annuale il superamento dei 25.000 dollari elimina completamente l'ipotesi 1 cioè la fase che il ciclo annuale si è iniziato da giugno non esisterà più quindi vi ho indicato quelli che sono dei livelli tecnici in maniera molto chiara dove questi due scenari che noi ancora abbiamo aperti al 50 e 50% si iniziano a muovere in maniera diversa quindi la fase rialzisce l'ipotesi rialzista che è l'ipotesi 2 ragazzi non la 1 assume probabilità quindi aumenta di probabilità se bitcoin supera intanto i 61.8 fino a qui non c'è niente di anomalo in questo rialzo ve lo dico in maniera molto chiara questo rialzo non inficia il concetto che da qui si può continuare a scendere è proprio non lo inficia perché è un ritracciamento normale però già all'interno di questa zona e soprattutto se supera questa zona qui diventa molto più probabile l'ipotesi 2 al di sopra invece di questo livello l'ipotesi 1 si annulla cioè si azzera in pratica l'ipotesi 1 quello significherebbe che da novembre siamo in un nuovo annuale e quindi scriveremo una nuova storia completamente diversa se invece questi livelli si mantengono ragazzi e bitcoin inizia come probabilmente paraseco dov'è perché nizchierà le carte io non sono convinto cioè inizierà una fase leggermente di ritracciamento per poi decidere quindi da qui in poi ci sposterà nella terra di nessuno e dovremmo iniziare a poi fare i trader veri perché la differenza poi lì è la tecnica di trading rispetto agli scenari però queste informazioni potete utilizzarle anche se non siete esperti di trading ragazzi perché in ogni caso vi danno delle indicazioni e in base alla forza di bitcoin su questi livelli che vi ho indicato vi potete anche tirar su le vostre somme le vostre idee generali ci tenevo a farvi vedere gli indizi nascosti in questo grafico proprio perché in sostanza intanto vi metto anche l'ultimo perché mi piaceva questa strada io non l'avevo messo questo titolo tu non puoi passare questo livello perché vi ricordo questo livello tu non puoi passare ragazzi perché vi ricordo il film del signore degli anelli allora nel discorso diciamo che vi diciamo nel farvi vedere questo grafico mi piaceva l'idea di darvi delle indicazioni estremamente basilari semplici 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 e meno confusionali possibili quindi eliminare la confusione spero di aver fatto questo fatemelo sapere nei commenti però quindi se vi siete avete capito un po' quello che sto dicendo e soprattutto avete delle idee chiare su dei livelli che sono oggettivi scrivetemelo nei commenti ma fatemi sapere anche cosa ne pensate voi qualcuno di voi è un super ciclista è bravissimo ed è apprezzato se mi scrive anche le sue idee nei commenti ci confrontiamo è figo le idee con le analisi cicliche sono molto belle però c'è anche un'altra domanda che mi ha fatto un utente di cui volevo anche parlarvi se dovessimo essere in un nuovo ciclo annuale iniziato a novembre quindi nell'ipotesi 2 quella realista che cosa faranno le criptovalute e non solo bitcoin seguiranno probabilmente in un super pump molte di quelle cripto che magari hanno perso l'80-90% perché poi alla fine io lo so che molti di voi stanno dicendo ma quali sono le cripto che devo prendere perché alcune hanno veramente fatto già 150 punti in due settimane quindi ovviamente dal punto di vista di profitto e per chi sta cercando la speculazione sono iperghiotte allora molti di voi chiederanno questa cosa allora c'è un altro grafico e si sempre così ragazzi come le mollichine c'è un altro grafico che possiamo andare a guardare e che ha un'altra grande indicazione sul fatto che se dovessimo essere nell'ipotesi di alzista 2 probabilmente da una precisa data zona di tempo non una data proprio con l'orario ma una fascia temporale probabilmente potremmo avere un vantaggio delle cripto su bitcoin e se questa cosa è vera e quindi tutta l'ipotesi 2 l'ipotesi 2 si va a confermare lì potrebbe essersi una mini 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 alti season e questa ve ne parlo ragazzi poi in un altro video per oggi è tutto e noi ci vediamo la prossima volta ciao